Signori, buongiorno! Ciao! Siamo in quel di Novara e indovinate dove andiamo a mangiare! Buongiorno! Un classico dell'antipasto italiano trasformato in drink, quindi è un prosciutto melone, l'estratto di melone e basilico con del prosciutto disidratato, un pochettino di sale al timo e la parte alcolica è data da un'infusione di grappa. Mentre in questo caso state bevendo, partendo da sinistra, un classico negroni, quindi fatto con la solita ricetta di Bitter Campari, Vermouth Rosso della Cocchi e del Gin Biffeter. La stessa identica ricetta che abbiamo cotto a bassa temperatura per 5 ore. In ultimo andrete ad assaggiare la stessa identica ricetta che però è stata cotta per 10 ore, sempre a bassa temperatura ma con una temperatura un pochettino più alta. Allora ragazzi, nota importante, siamo stati invitati qui al bistro di Cannavaciolo di Novara. Ringraziamo lo chef, ringraziamo lo staff. Non vediamo l'ora di scoprire che cosa andremo a mangiare. Intanto cominciamo con due cocktail. Che tecnicamente sono quattro, visto che ci sono quattro bicchieri. Sì, più che altro io mi devo far fuori tre negroni così pronti via. È buonissimo perché il melone è dolce ovviamente, il salato del prosciutto che così uno penserebbe ma forse è un po' strano come gusto, in realtà è buonissimo. Comincerò con negroni espresso, quello classico diciamo così. Buono, però se me li devo seccare tutti e tre ho ufficialmente un problema. Ma ci sono qui io per darti una mano. Questo ha un gusto diverso, ma picchia esattamente come il primo. Però si nota la differenza tra il primo, il secondo e il terzo. Non so dire in cosa perché io non me ne intendo di cocktail, però hanno un sapore leggermente diverso. Mentre da un punto di vista del grado alcolico bastonano alle orecchie tutti e tre. Allora, cominciamo con un piccolo aperitivo di benvenuto da parte della nostra cucina del nostro chef Vincenzo Manicone dove troverete una parte calda e una parte fredda. Vi consiglio proprio di cominciare dalla nostra parte calda, quindi focaccina pugliese con pomodorino, origano e sale maldo. Accanto trovate la sfera nera, contiene cremoso di parmigiana e di melanzane avvolta da polvere di buccia di melanzana e cremoso di burrata. Proseguiamo poi con la parte fredda, quindi una piccola frisella con la base di farina integrale e gelatina all'acqua di mare, pomodoro e origano. Terminiamo con il nostro aperitivo all'italiana. L'abbiamo chiamato così perché secondo noi il più classico aperitivo italiano è semplicemente a base di birra media, chiara e noccioline salate. E quindi abbiamo ricreato questa falsa arachide. In realtà contiene proprio un cremoso di arachide tostata salata e gel alla birra. Ragazzi, Gianno non stava registrando perché è già marcetto. Anche i migliori sbagliano. Notiziona incredibile, sono stata attenta. Focaccina con il pomodore. Il pomodore? Il pomodore è questo tipico ortaggio. Focaccina con il pomodoro e sale maldo. Cremoso di melanzane, ragazzi. Buonissimo. Guardate che bella questa frisella. Fresca e croccante. Arachide e birra, ragazzi. È buonissimo. È come mangiare il burro di arachidi, ragazzi. Proseguiamo con un altro piccolo benvenuto da parte della nostra cucina e dello chef Vincenzo. La nostra entrée è la nostra impepata di cozze. L'abbiamo trasformata in un piccolo finger food. Quindi troverete il guscio di pasta fillo e nero di seppia, all'interno caviale di acqua di cottura della cozza, cozza con all'interno il pomodoro confio e un cremoso di latte e cinque pepi. Andiamo a terminare il finger food con una foglia di prezzemolo cristallizzata. Tutto edibile con le mani in un subboccone. C'è la sapidità del caviale della cozza e la dolcezza del limone confio. È buonissima. E poi la presentazione, ragazzi, è da urlo. Per uno dei due piatti primari abbiamo scelto Fina. Fina è una cantina in provincia di Trapani, siamo in Sicilia. Andiamo con un grillo che brilla 2018, in questo caso l'annata per voi. Abbiamo un vino molto aromatico. Allo stesso momento abbiamo una nota di acidità per mantenere la freschezza. Quando ho letto sul menù Scampi di Mazzara del Vallo non si poteva che andare in Sicilia. Sicuramente accompagnerà molto bene anche per il pomodorino giallo che avrete nel mantecato. Per gli altri due piatti invece abbiamo un foie gras e allo stesso momento uno spaghettone con l'anguilla. Selezionato un vino abbastanza aromatico, proveniente invece in questo caso dal nord Italia, Mario Schioppetto, abbiamo un blend di Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Pinot Grigio e Friulano. Molto aromatico, molto morbido sul palato, questo accompagnerà sicuramente molto bene gli spaghettoni con l'anguilla. Allo stesso modo l'aromaticità si accompagnerà con il foie gras che è un grande classico. Allora in accompagnamento a tutta la cena vi lascio anche il nostro nuovo pane, un pane a lievito madre che ha fatto il nostro chef. Ha proprio creato il lievito madre in questa quarantena quindi l'abbiamo resa anche un po' produttiva diciamo, un po' come hanno fatto tutti. Ha una lievitazione di 26 ore quindi una buonissima acidità. Io vi consiglio proprio di accompagnarlo con la mousse di burro francese, mantecato, leggermente salato con dei fiocchi di sale maldor. Il tutto accompagnato poi con il nostro cestino dei gristini dove trovate i gristini classici tirati a mano con olio extravergine e farina semi integrale semi. Proseguiamo poi con le schiacciatine, sono realizzate con la farina di grano arso tipica pugliese e un po' di cipolla. Non è colpa mia, è Giano che mi ha detto vai di mossa secca sul burro, è divenuto fuori questo, ma io non volevo prenderne così tanto. Il momento del pane è fondamentale. Il momento del burro è fondamentale. Comunque pane e burro è una combinazione fantastica. Rimarrà su un davanzale a Novara. Cominciamo ufficialmente la nostra degustazione con appunto gli antipasti. Per la signora le nostre capisante del Mediterraneo leggermente scottate. Alla base trovo una riduzione di lampone e aceto di lampone, rapa rossa in agrodolce di lampone, emulsone di scalogno e scalogno confit. Per i signori invece la nostra terrina di foie gras di anatra. All'interno vede un inserto ed è una caramellina gelée al limoncello, quindi in questo caso ne andiamo un po' a smorzare la dolcezza. A lato troviamo l'alice ripiena di quartirolo, panata e fritta e alla base invece scarola la similpartenopea. Prego. È cotta in una maniera deliziosa. E questa roba qua, che adesso guarderò prontamente che cos'è. Mi piace perché è come quando spirci a scuola. Questa emulsione di scalogno, che sapevo benissimo senza nessun tipo di suggerimento, è buonissima. Il fegato è strabuono. Ricordati che bene devi accedere un pezzetto, eh. Scusa, scusa. Ma che cosa stai facendo? Scusa. Questo piatto era assurdo, ragazzi. Proseguiamo per la signora con il nostro risotto. È un riso carnaroli accompagnato da un cremoso di pomodorino giallo cotto al forno. Andiamo a terminare il piatto con una polvere sottilissima di cipolla tostata, la maionese di scampo e scampo crudo Sicilia. Per il signore invece il nostro spaghettone freddo di graniano, accompagnato in questo caso da un cremoso di anguilla. Sia cotta al vapore che affumicata. Alla base un cremoso di aglioli. Terminiamo il piatto con una bottarga di tuorlo d'uovo fatta proprio da noi. Quindi abbiamo fatto esticcare proprio il tuorlo d'uovo. Abbiamo ricreato questa similbottarga che abbiamo grattugiato a terminare il piatto. La bottarga di tuorlo e l'aio lì sotto sono assolutamente deliziose. Lo spaghettone spesso e goduriosissimo. Da quanto tempo lo dicevo goduriosissimo, ragazzi. Da prima del lockdown. Che cos'è quella polverina bruciata? E polvere di cipolla tostata. Come si è preparato stasera? Quasi una birra. È una birra. Siamo voluti stare un po' anticonvenzionali. In questo caso abbiamo cercato qualcosa di diverso. Con il vino andiamo in Trentino Alto Adige. Andiamo da Elena Walsh. Andiamo con un pino nero del 2016. È un pino nero molto leggero. Allo stesso tempo ha queste note che comunque sono molto floreali e i tannini sono molto bassi. Questo è molto importante. Abbiamo anche un po' leggermente abbassato di temperatura. Quindi accompagnerà molto bene sia il raviolo che la triglia. E c'è la seconda un po' più particolare. Quella che forse attrae anche di più l'attenzione. Nordum. Siamo in un birrificio qua a Novara. Venus è la tipologia di birra. Si può identificare secondo me come una dark lager. Fatta sia da un malto d'orzo ma anche da riso venere. Molto morbida. Giusto con la punta di acidità. Il mio modo di vedere è che andrà a contrastare un attimino con alcune parti grassi del piccione. Lo stai facendo? Ah pure. Cristino Niburro. Il livello pro. Proseguiamo con un raviolo tondo di pasta fresca fatto da noi. La parte nera è semplicemente dovuta all'utilizzo di carbone vegetale all'interno dell'impasto. La farcia però è la particolarità. Abbiamo cotto separatamente in maniera classica il riso allo zafferano milanese e lo subuco alla milanese. All'ultimo li abbiamo uniti farcendo proprio il nostro raviolo. Quindi diciamo è un primo piatto, un piatto unico all'interno di un primo piatto. Terminiamo con una nota di limone dovuta proprio al riso allo zafferano con un gel di limone grigliato. La polvere verde è una polvere di olio all'alloro ma non finisce qua. Vi vado a terminare il piatto con una colatura composta dal fondo di cottura ristretto dell'osso buco che abbiamo utilizzato per la farcia e un po' di aglio nero. Effettivamente c'è il gusto dell'osso buco, del risotto allo zafferano e poi l'acido e l'amaro del limone sopra. Molto buono. Ragazzi è una bomba. Per la signora la nostra triglia alla Rossini. Questo vuol dire che abbiamo voluto proprio rivisitare il filetto alla Rossini. Ovviamente siamo passati dalla carne al pesce. Abbiamo voluto ricreare le squame con delle scadi di tartufo nero come da tradizione nel filetto alla Rossini. Proseguiamo con pan brioche scottato con cremoso di foie gras di anatra, cremoso di bergamotto a rinfrescare un po' il palato. Spermiamo con la base di vino madera. Il nostro piccione. Nel piatto principale di fronte a lei la Suprema, cottura medium rare glassata con il proprio fondo. Accanto invece la melanzana perlina panata e fritta con il panco accompagnata da mortadella e pistacchio tostato salato. La parte principale gliela vado a completare con una colatura composta proprio da fondo di cottura ristretto del piccione stesso. Proseguiamo poi con la coscetta, una coscetta ripiena con mortadella e pistacchio panata nella polvere di buccia di melanzana. E poi l'ultimo pezzo, paninetto di lievito madre cotto al vapore al mais al suo interno finanziera di piccione. Voi non avete visto niente, vero ragazzi? La trillina è molto sapida. Il crostino con il foie gras è dolce ed è delizioso insieme. Questo è un piatto cazzuto ragazzi perché prevede il piccione, la melanzana con la mortadella. Questo e questo. Li chiamerò questo e questo. Piccione buonissimo. Melanzanina fritta con mortadella, cioè praticamente da solo tutto questo piatto è come se fosse una cena intera. La melanzana con la mortadella è top. Panino con finanziera di piccione. Bello strong, però molto buono. Mortadella e pistacchi con polvere di buccia di melanzana. È uno snack. Ci voleva uno snack. Molto gradevole. Vado a completare il piatto del piccione con una quenelle di gelato fatta da noi al fieno. Quindi andiamo a rinfrescare, a ripulire il palato. Non chiedetemi perché, però sa di fieno effettivamente. Come fai a sapere che gusto ha il fieno? E assaggialo. Sa di fieno o no? Sì, sa di fieno. Vedi che avevo ragione. È il fin di bocca che ti lascia il sentore di fieno che tu conosci soltanto da un punto di vista olfattivo. Eh sì. Dai, ammettilo che ti mangi il fieno ogni tanto. Allora, a questo punto della cena andiamo veramente a rinfrescare il palato, a ripulirlo e a prepararlo al vero dessert con un piccolo pre-dessert. Troverete alla base una semisfera di gelatina al ginger beer. Viene avvolta da questa spuma di camomilla, fiori di camomilla sabbiati, una polvere sottirissima di limone e poi andiamo a terminare il piatto con un elemento molto particolare. Sono delle caramelline frizzanti, tipo le frizzi pazzi. Sì, 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 sì. No, ma sono cresciuto con le frizzi pazzi. Esattamente. Il frizzante è molto simile, sono a base limone e quindi anche loro hanno questo potere di rinfrescare il palato. La spumina al ginger è buonissima. Molto rinfrescante e leggero. Allora, siamo a Breganze, in questo caso andiamo da Maculan come produttore. 2018 è per voi l'annata, dindarello è il nome del vino. Un grande classico italiano, quindi un moscato giallo in questo caso, passito. Quindi frutta fresca, questa super pesca che viene subito al naso, un'albicocca super profumata. Allo stesso tempo comunque un pizzico di acidità la manteniamo, giusto per contrastare comunque il fattore grasso, diciamo, che abbiamo all'interno del dolce. Molto, molto buono. Perché è dolce ma ha una punta di acidità super equilibrata. Vi do una breve spiegazione sui nostri dessert. Quello della signora si chiama Bellini, proprio perché siamo andati a rienterpretare il cocktail Bellini, con questa finta tesca, perché in realtà è bavarese all'alta langra contratto. Quindi andiamo a riprendere la bollicina all'interno del Bellini. Il suo cuore è di chutney, di pesca e basilico, il picciolo di cioccolato fondente, la fogliolina è vera, si chiama salvia ananas, c'era questo stentore molto fresco, molto acidulo, che ci piaceva tantissimo, ovviamente è edibile. E poi alla base troviamo una polvere di effervescente, a cui vado ad unire questa colatura composta da acqua vite, basilico e pesca. Andiamo così a ricreare l'effervescenza del cocktail Bellini. Per il signore è la nostra panna cotta, e quindi troverà alla base un cremoso di latte di bufala e fava tonka, mentre da questo lato troverà la panna cotta al fieno. Andiamo a terminare poi il piatto con il nostro gelato al cookies, con crumble di cookies alla base, gel di bergamotto, i due quadratini sono di mango ai 5 pepi, la nostra albicocca confit fatta da noi, le due meringhe di mela verde, la sfera di cioccolato bianco al gin curry, perché all'interno c'è proprio un cremoso di gin e di curry. Andiamo a terminare con la parte più fresca, con cui vi consiglio proprio di chiudere il piatto, quindi il nostro finto passion fruit, in realtà all'interno c'è proprio del passion fruit, la copertura è cioccolato. Una bavarese all'alta langa ragazzi, no no ma di fatto avevo capito tutto, volevo solo verificare se era giusto. Sì però la prossima volta il copione lo leggo in camerino, non sul set. Allora inizio da questa base che dovrebbe essere la panna cotta, con queste puntine di acido che sono queste palline gialle e rosse. Ragolina con quenelle. Molto bello questo piatto qua, è anche molto buono. Allora andiamo a concludere questa cena con la nostra piccola pasticceria finale, dove ovviamente non potevano mancare le nostre corine di aragosta. In questo caso variano un po' dalle classiche scogliatelle napoletane e proprio dalla farcia. Non c'è la ricotta ma la crema chantilly, sono farcita al momento. Il bignè ha il tripolo cioccolato, al suo interno un cremoso di cioccolato rosa ruby e un po' di carcadè. Andiamo avanti con il macaron, è un macaron alla pastera napoletana, l'abbiamo proprio ricreata sotto forma di appunto macaron con una ganache di pastera all'interno. Ne andiamo a ricordare un po' la consistenza anche con un candito di arancia al suo interno. Proseguiamo poi con un tartufino di nocciola e cacao e chiudiamo con la penna colada. Pignacolada in versione pennetta, cocco, ananas e batida. Il mio consiglio è proprio quello di terminare con la penna colada, diciamo l'elemento più fresco della piccola pasticceria. E nel bistro di Antonino ragazzi non poteva mancare la coda di Aragosta. Ripiena di crema chantilly e chiudiamo in bellezza. Ringraziamo moltissimo lo chef e tutta la struttura per averci ospitato, ci siamo trovati molto bene. Ovviamente ragazzi vi consigliamo questo posto. Fate like, condividete, seguiteci su Twitch, su Instagram, su Facebook, su Frint Proust e su tutti i social in cui vorrete trovarci. Ci vediamo al prossimo stellato!